Con Mr. Berrettini, allenatore del Pioraco, 45 minuti di grandissima intensità. Poi forse la sua squadra è un pochino calata, comunque diciamo che il risultato forse è quello più giusto, sia Fiuminata che Pioraco meritavano questo punto quest'oggi. Sì, hai detto bene, abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove meritevamo indubbiamente il vantaggio, abbiamo creato molto, abbiamo giocato molto bene. Forse abbiamo fatto anche un gol regolare, però tutto voglio tranne che fare polemica a Fiuminata, voglio dire, ci mancherebbe. Poi dopo il secondo tempo hanno giocato meglio loro, sono venuti fuori meglio di noi, hanno avuto qualche occasione, quindi alla fine il risultato è giusto. Con Mr. Ortolani, allenatore del Fiuminata. Allora Mr. quest'oggi, dicevamo prima della partita, che ha dovuto fare i conti con assenze, infortuni, squalifiche e feste di laurea. E diciamo che portare via questo punto con 15 effettivi da portare in distinta è stato comunque un grandissimo risultato. Ma guarda, io siamo alla fine del girone dell'andata, non mi stancherò mai di elogiare questi ragazzi, questa società, perché veramente stiamo facendo sopra le nostre forze. Il nostro cammino doveva essere un altro cammino, ce lo teniamo per buono, perché chiudere al secondo posto per noi è un grandissimo onore. Non so quanti avrebbero creduto quest'estate che avessimo potuto fare un cammino di questo tipo. Oggi sì, eravamo rabberciati, ma ormai sono diverse partite che facciamo fatica con i nostri effettivi. Abbiamo fatto credito alla nostra onesta partita, siamo stati attenti, ordinati. Il primo tempo abbiamo sofferto, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire. Il secondo tempo siamo forse venuti un pochettino fuori noi come condizione atletica. Abbiamo rischiato di fare il colpaccio, poi questi due episodi dubbi, uno per parte, il gol annullato al Pioraco al primo tempo e questo annullato a noi che mi dicono non fosse fuori gioco, ma va bene così. Diciamo che il pareggio ha rispiecchiato alla fine poi quello che è stato l'andamento della gara.